Oggi andremo ad infrangere l'unica regola di Fortnite, andremo a ballare nei luoghi proibiti Ne dobbiamo fare 5, guardate qua, balla in diversi luoghi proibiti Ma Ferretti, stupirò con una cosa, sai che non ci sono 5 luoghi ma ce ne sono 14? Ma è vero? Sì, sì Quindi non sono giusti giusti, c'è puoi andare dove ti pare? No, per niente, sono un po' ovunque nella mappa E infatti il nostro obiettivo, dato che ce ne sono così tanti, sarà riuscire a farne proprio 5 in un solo game Non sarà semplice ma sarà una sfida, secondo me, divertente Ovviamente andremo ad infrangere la regola, quindi saremo super fighi e sarà una figata Mi sono fatto una mappa mentale, allora se ne andiamo al motel, poi andiamo intorno a qui che ce n'è una super nascosta Poi andiamo ai contene, percorso commercio e poi borgo bislacco Ok Ne riusciamo a fare 5 in una sola traiettoria Quindi tutto un giro così in pratica Sì, 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 è una mezza follia, però dovrebbe funzionare Sì, decisamente, decisamente Secondo me può funzionare, allora mi ricordo già che qui nel motel è dove c'è la piscina quella vuota Ok, quindi punto direttamente là così andiamo subito a ballare Beh, potremmo anche prendere al volo due armi che non si sa mai che scende altre gente Eh, vediamo Ok che ballare è importante Sì, ok, però non mi sembra che ci sia nessuno, dai I player ci sono nella mappa Non devono tutti ballare Sì, ma sono tutti da altre parti, nella nuova città, i nuovi posti più belli Credici, credici No, a partire gli scherzi sembra safe Sembra che siamo safe, sembra che siamo soli Per nostra fortuna, quindi vieni qui Ok Allora, dovrebbe essere... Ah, eccolo, non lo vedevo, guarda Un po' li nascondono sempre Sì, non è che lo noti subito Ma lo facciamo, Steph Uno Spazzolata, vai Oh yeah Oh yeah Adesso ci sparano in testa, perché ce lo meritiamo Sì, un pochino sì Allora, vediamo se riusciamo a trovare anche un po' di equipaggiamento Prima di andare ovviamente a cercare gli altri luoghi previsti Perché altrimenti neanche ci arriviamo all'altro posto, quindi Esatto Ok, vedi la ma? Eh, sì, lo vedo È lì Lì lo so dov'è Si vede già il cartello Perché si vede già da qui È facilissimo E comunque ce l'avevo già presente ancora prima che ci fossero gli altri, quindi lo so Ok, allora, abbiamo pochissimo tempo, sarà una corsa contro il tempo Io per fortuna nel caso ho anche un medikit Anche io, anche io, anche io Ah, perfetto, perfetto, pensavo di avercelo solo io Quindi nel caso avessi perso un sacco di vita, quindi sarebbe stato un po' un casino Non so se hanno lootato, non so se ci sono player Ma noi qua dobbiamo correre dritti perché c'è pochissimo tempo per riuscire a fare il lama Ed è indispensabile per riuscire a farli tutti Cosa ho appena fatto? Non lo so Non ha molto senso Io ti ho anche seguito Aspetta, salta, parkour, parkour, parkour Ok, saliamo così? Eh, sì Ma che sto a fa? Calmo, Steph Già ho pochi materiali Se poi li spreco, è la fine Ok, ci stanno già abbiamo fatta Ok, eccoci qua E siamo al numero 2 E la zona c'è già arrivata Porca miseria Fare qua rapido proprio, è balletto velocissima Valli veloci, veloci, veloci Ok Ok, voglio anche questa legna Nel mentre che fai la legna, dai, basterà Andiamo via, andiamo via, andiamo via Porca miseria Ok, questo qua come ricordo va dentro Oh, un altro Ma ci spara qualche player, io lo so Sì, sicuro Ce lo meritiamo Veloce a ballare, mi raccomando Aspetta che arrivo Ma non puoi ballare senza di me però, eh Sei un po' terribile Io allora cambio ballo Ok Eh, ma allora io te lo faccio più figo Loser Loser Andiamo Basta, andiamo via, andiamo via Ok Allora, ho notato tutte le porte aperte Quindi neanche la speranza di poter luttare qualcosa Nina, Nina, Nina Per i poveracci E adesso, teoricamente, dovremmo andare a quello di boschetto Sì Purtroppo non vedo più il cartello Perché ci abbiamo Che sfiga con la zona Bastavano 10 secondi Ah, eh sì Bastavano L'ho visto Nei parcheggi del burger Ok Io lo faccio al volo Io lo faccio al volo Non me frega nulla È una questione d'onore No fai tu corri dentro Corri dentro la zona Non me frega nulla Non mi morire Ma no voglio fare il ballo Non mi morire Mi sta rovinando la vita Mi sta rovinando la vita Ok l'ho fatto Totalmente Mi sta rovinando la vita È la sfida più ridicola di sempre Corri Steph Abbiamo già messo delle clip Dove siamo andati già a ballare in diversi punti Perché abbiamo provato a fare un video Dove andavamo nei vari punti Ma era abbastanza noioso Perché era un corri simulator Cioè corre da parte all'altra della mappa Senza sparare Senza nulla Era abbastanza noioso Poi pochi equipaggiati Incontri un team e muori Quindi sinceramente Molto noioso Dato che secondo me può essere utile i consolini Abbiamo un posto dove si balla All'entrata del laboratorio della latrina Poi ne abbiamo uno All'Ande Letali Vi faccio vedere qua dove c'è il laghetto Ne abbiamo uno alla prigione Nel campo da basket Guarda come me li ricordo tutti Corso commercio In questo punto preciso Dove ci sono i market E Boschetto Bisunto Sta davanti al fast food Spiagge Snob Sta all'entrata qui Ma ce ne facciamo un altro Poi ne abbiamo Uno a lama Ne abbiamo Uno al motello Dove c'è la piscina Ne abbiamo Uno in questo punto qua Nascosto in Bosco Blatterante Uno nei parcheggi Dei container E vabbè c'è tutta la lista È una spesa questa Eh sono stato bravo eh Dove vuoi andare? Non lo so Volevo andare in questa zona qui Ma ormai l'abbiamo superata Andiamo a rifugio ritirato? Sì Beh perché Non mi piace mai Il rifugio ritirato E lo so ma stavo facendo vedere I consolini I vari spot Eh ma ci dovevamo buttare Tipo all'Anda E mi sono dimenticato di scendere Ok Mi sono dimenticato di scendere Adesso moriremo Stef Non è un bel posto Dai è bruttissimo Andiamo a Bosco Blatterante A Bosco Blatterante A cosa? A raccogliere le ceste Però devo aprire le ceste Eh appunto abbiamo la missione Eh ma così le dobbiamo dividere Fare Allora vado a rifugio Ciao Beh io vado a Bosco No vieni a rifugio Ok Gira e muoviti Io vado alla villa Tu o alla torre Eh no non ci arriva la torre E vai lo stesso alla torre Ormai perché Ho perso tempo E anche io mi hai fatto girare tu Che volevi andare a boschetto E volevo fare le Le missioni Scusa sono utili Stef Del pass battaglia Si fanno Ho capito però Porca miseria Non ti lamenta Stai zitto Allora medicit Munizioni Allora vediamo che troviamo In questa torre Ho già un bel pompa Prendo anche molta legna Fin da subito Uno shield grande Che mi fa molto felice Anche questa lag Nel non distrugge le cose È sempre molto bella E piacevole RPG mano Aspetta che mi tengo anche questo Cioè ho 60 colpi Delle mse Ma come si può giocare così Io ne ho 44 Stef Ma dai ma sei più povera Eh vabbè che ti vuole Ho detto È impossibile che sia sotto di me E invece sì E cosa ti devo dire Va tutto male oggi Oggi forse ci siamo svegliati Con una stella storta Non lo so come si dice Quando hai sfortunato È perché abbiamo dormito troppo Quindi il karma ci punisce Ma è vero Sono dormite anche presto Ma quando vai Ah le 8 del mattino è tardi Di solito alle 7 Quindi sì è tardi Eh beh certo È tardissimo Ma stai zitto Infatti siamo in ritardo Con la marcia di registrazioni Quindi siamo in ritardo Il karma ci punisce Allora Piuttosto Devo cercare un attimo Il È difficile cercare Un cartello Mentre c'è gente che spara Ovviamente Ho già visto il cartello Però c'è gente che spara Sì sì Qua 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 Dov'è? Questa era la semplice Mi ricordavo Ti ho detto Qui Quindi Ok arrivo Ah eccolo L'ho visto solo adesso Ok Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Sì 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 Ci siamo Ok Due player di fronte a noi Scusa se sto ballando Uh arrivo Basta ballare Dovrebbe bastare Quindi basta 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 Dov'è? Li ho tolto vita Anche io ho colpiti Altra vita Una terra Brava Ne manca uno C'è un attimino che costruisco Per non farmi dare troppi colpi gratis Ucciso Ok Bravi Allora M16 blu mio Cosa? M16 blu mio Ok Mi prendo anche Ah il fuccio di la pompa l'hai preso tutto perché non ce l'avevi? Eh avevo l'altro che non mi piace Dov'è il tipo che hai ammazzato per primo Fere? Eh era qui Era qui sotto la scala Vedi che è pieno di loot Ah ok 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 prendi i cilini C'è anche il pompa a fare Allora che cavolo vuoi? Ho preso tutto io Però aspetta Che c'è? Ecco che ne ho presi troppi Per sbaglio Tieni Questi sono per te Ah Grazie Ok Ok 10 Perfetto Beh ci siamo anche equipaggiati Abbiamo ballato a corso commercio Ci siamo equipaggiati Sono già abbastanza felice Direi che non è andata male esatto No no per niente Allora aspetta un attimino Io mi tiro E quanti cilini hai? Piena piena Anche lo slurp Ok Quindi sono messa abbastanza bene Tranquillo Anche un medikit poi eventualmente Va bene Va bene Quindi se dovesse servire Il problema è che scarseggio un po' E player a nord Ho visto qualcosa a correre Davvero? Sì sono praticamente sicuro Era una macchiolina Ma secondo me era un player che correva Sta sotto la montagna adesso teoricamente Ok O era un cespuglio caricato in modo brutto O magari un cespuglio player No Entrambe le cose no? No Sicuro Non c'è nessuno Aspetta che questi me li faccio Che danno sempre un botto di legna Sì che c'era Ok Eccolo 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 È dietro la collinetta Sì Quindi giustamente è coperto Occhio Steph Andiamo Non voglio poi rimanere fuori dalla zona Dopo che facciamo i fight Sì comunque andiamo Però dobbiamo chillare È solo? Sembra di sì Ok Perlomeno la macchiolina era una Non due quindi Non due Dovrebbe andar bene Ricordati di saltare Due player Salto salto E siamo alle spalle Non ce l'ho visto Pronta eh Tanto lontani o poco? Che armato No poco poco Sono sotto di noi Ok Non ci hanno visto Sembra bene no Però non so dove è l'altro L'ho perso Continua a correre Ok A terra? Sì Perché l'ho anche colpito Anche sparato per sicurezza Dov'è l'altro? Non lo so Ma Vabbè arriverà qui per forza Perché dovrà fare qualcosa Con l'amico Eccolo È in mezzo al bosco Ok Uh colpisce Ucciso Ok Ah Oh bello E questo è mio Grazie me le prendo comunque E questo è mio Porca miseria L'altro come era messo? Shieldini Che mi prendo Questo me lo prendo però Ok Adesso abbiamo Materiali Trampolino Armi belle Let's go Soprattutto anche 4 kill Cioè che partendo Io ho sempre pochi colpi Per andare lì A ballare A fare cose Quanti colpi hai? Quanti colpi hai? Io? Eh 280 Dai 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 a fare Dai a fare Su Che io qua con 39 colpi Non combino nulla Ok grazie Presi Ora va tutto Tranquilla ora Sì Non è che colpi dei missili di nuovo? Fammi vedere No Quanti ne hai? No va bene ho 8 Non abbiamo trovato persone che ne avessero in abbondanza No vabbè ma teoricamente bastano Come vedi abbiamo già fatto due fight vinti Ma poi va benissimo perché infatti due fight vinti Quindi direi che è ottima la cosa Yes 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 Va bene così Va bene così 18 vivi E mi sta iniziando a piacere questo game Mi sta iniziando a piacere davvero tanto Fere lo sento nelle mie vene Non ho purtroppo il cechino E player? Sì Ah mi sono fermato un attimino per Bere Due shieldini Piccoli Se oggi riesco a parlare Magari va anche meglio Li vedo Li vedo Lontani ma li vedo Uno o due sono? Uno sembra Colpito 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 Ok brava Andiamo addosso? Sì Occhio perché secondo me è cechino C'è stato anche un bel fight comunque qua Siamo anche out of zone Quindi una roba rapida Non lo so Eh sì non voglio morire di zona dai Stiamo andando così bene Morire a primo modo di stupidi No Lì giù lì giù L'ho colpito due volte Buttato giù una terra Ok c'è quello lontano Ah no è qui Uccisi Via 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 E c'è un altro La zona però Sì 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 Andiamo 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 C'è erano due team diversi Killati due E ce n'è uno bassissimo Che avevo colpito ancora prima due volte Quindi c'è uno che ha tipo 30 di vita Con la zona che chiude Credo che sia morto Quindi teoricamente è andato anche quello Ok Corri velocissima Corri Corri più che puoi Steph Si ha facciato uno Che era l'amico di quello che stavamo focussando Dalle finestre Arrivato boom Headshot A me sembravano infatti assieme Però poi no Alla fine non lo erano No i due vicini erano assieme Quello lontanissimo Era un altro team Ok Eh io non ho visto bene quei due Quindi pensavo che comunque fosse il compagno un po' più lontano Invece c'era un altro Però vabbè tanto vedi i player spari Quindi che ti importa di chi è Allora velocissima Porca miseria forse anche io Dai non voglio prendere danno gioco Ti prego Vabbè siamo arrivati eh Siamo arrivati Quindi almeno un'ottima cosa È morto l'altro Di zona Eh non mi dà la kill nel caso Io l'ho ritato L'ho mandato tipo Gli ho tolto due volte e 35 Pensavo che se lo colpissi poi te la dà Invece no Vabbè pazienza Pazienza Eh due player di fronte a noi Ok Stanno scherzando tra di loro Tirandosi le granate di impulso Mi è sembrato La destra sotto la collinetta Di vedere qualcuno Non sono sicura però eh Perché però con la coda dell'occhio Penso di aver visto qualche movimento Beh sparare stanno sparare Eh stanno comunque sparando a qualcuno Eh non è che Si stanno tirando le granate per scherzo Scusami E lui si mette in mezzo Colpiti Dietro Vedi vedi te l'avevo detto Te l'avevo detto cavolo Che stavano qua Uno o due Non lo so Però ti avevo detto Che con la coda dell'occhio Avevo visto qualcuno Ci lascia Dov'è Stef È morto Ok L'hanno ucciso gli altri Sì Ok Mi serve assolutamente un medikit Te lo posso dare io Fede Vieni Tieni 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 Te l'ho buttato qui sotto Però sta Prenditelo Poi trovi Era una pessima idea Andiamo via Ok andiamo via Meno male che lo avevi Guarda meno male Eccomi Tu non ti chiudi è troppo Guardati un po' intorno No 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 Infatti mi metto anche sulle scale Controllo Allora sono andati dove abbiamo ucciso il tipo Probabilmente si aspettavano di vederci Prendono il trampolino Arrivano Stef Stanno arrivando Ok Dov'è? Qui qui da me Dietati? È qui sopra Dov'è? Sopra 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 Sì Ok l'ho colpito Non so dove è il suo amico Penso che non sia Eh Qui dietro Non è sempre qua che colpisce Ok Ok Oh ma ce l'hanno con me Non mi sta a rompere Che cavolo Che ti devono finire per forza Però eh Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Davvero tanti fight Davvero tanta gente da ammazzare È stato un delirio E cavolo Quello alle spalle è stato Il momento Che ci ha rovinato il game L'avevi visto davvero Era giusto Però era da solo Eh ma te l'avevo detto Io quella No sì sì Avevi ragione tu Cioè ho percepito un movimento Dovevamo comunque Almeno controllare È stato quello l'errore